... ... ... ... Dopo il stop di Poglianella, Tussena con le mani sui uomini, zinca! Poglianella che è il valore che avrà fanno un po' sull'idea, con stop che fa l'attene con Samorenti, Samorenti, Samorenti! Vai Camilla, 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 Camilla Ancora dentro, per la Metti ti fa vedere, arriva il posto, c'è per il rigore, ancora la Metti fa l'ora indietro, la musica! Uzziato! T Lyra! Angolisti! T Ehi busco! Ehi santo ragazzi! Sei che pui recupero! La bordo vince del Napoli! La bordo vince del Napoli! La bordo vince del Napoli! Adesso la bordo vince del Napoli! La bordo vince del Napoli! Dai Carlo hai ragione! Non abbiamo vince da Carlo! Carlo va ahI! Force Force! Secondo palo! no no è occasione per Christian Marx al volo il fanno regalato ai tifosi napoletani vai, ma passa, lui, ma le vanno a casa che piazza che piazza 40 secondi a terra, la lezza, dentro per Amsic di prima, Amsic Fandem, Fandem a terra, tutti in protesto il calcio di rigore mi sono buttato